Carbonara di mare Al posto del guanciale saltiamo in padella dei cubetti di pesce spada fresco aromatizzati con sale e pepe E invece della carbocrema finiremo di cuocere le nostre linguine all'interno di un'emulsione acqua-olio extravergine profumata all'aio Dove scaricheranno il loro amido e si formerà una cremina che andremo a completare con del prezzemolo tritato e le nostre uova di riccio al posto del tuorlo duro E guardate qui che crema ragazzi Chiudiamo col nostro pesce spada a cubetti E ci godiamo una bellissima carbonara di mare super cremosa e saporita Tagga qualcuno che deve preparartela e ricorda Se non è disumano non ne vale la pena